Buonasera a tutti e ritengo mio dovere anzitutto ringraziare i rappresentanti tutti dell'associazione Paracea che ci hanno voluto offrire l'occasione come istituzione scolastica di partecipare a questo incontro stasera. Sono il rappresentante regale del Giustino Fortunato, istituto tecnico commerciale e ritengo necessario fornirvi qualche dato su quella che è la nostra istituzione scolastica, la quale è frequentata da 816 alunni, ci si avvale di 120 persone tra docente e personaliate che operano all'interno nell'opera di formazione, di educazione e di valorizzazione anche del territorio.